Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura come al solito l'emergenza sanitaria da oggi cade, l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto in tutta Italia, ma il governatore della campagna De Luca non ci sta nuova ordinanza per la campagna. Spazio poi alla cronaca con il tentativo di estorsione ad un'edicola a Torre del Greco. Parliamo di politiche sociali, botta e risposta tra il consigliere del Movimento 5 Stelle Vincenzo Salerno e l'assessore Maria Pirozzi su piano di zona e politiche giovanili. In chiusura ancora disagi sul fronte, rifiuti, la situazione diventa ancora più critica con il caldo di questi giorni. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. La settimana che si apre vede l'Italia tutta in zona bianca e senza più l'obbligo di mascherine all'aperto, se c'è la distanza. Vanno comunque portate con sé. Una rivoluzione rispetto agli ultimi sette mesi, con l'incognita e la variante Delta, quadruplicati casi a giugno rispetto a maggio, che potrebbe imporre nuove zone rosse limitate. Le riaperture saranno completate entro il 10 luglio dalle discoteche sotto le stelle. In Campania tuttavia resta obbligatorio l'uso delle mascherine all'aperto, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti. Lo prevede un'ordinanza firmata dal governatore De Luca, che spiega che si tratta del 95% dei casi. L'uso delle mascherine resta obbligatorio sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato. Ad esempio centri urbani, nelle piazze, sui lungomari, nelle ore e situazioni di affollamento, nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, o nei trasporti pubblici all'aperto, quali traghetti, battelli e navi. Se prosegue così la vaccinazione a Napoli, prosegue De Luca, andiamo verso un nuovo lockdown nel giro di pochi mesi dopo settembre. Nel territorio dell'Asla Napoli 1, tra i tanti cittadini convocati per la seconda dose, o anche la prima, si sono presentati un numero limitatissimo. Ad oggi, per quanto riguarda l'Asla Napoli 1, su 839.000 cittadini residenti e vaccinabili, vi sono 317.000 mancate adesioni, spiega. È un dato non sostenibile. Continua la gestione scorretta della distribuzione dei vaccini. A Lazio, che ha la stessa popolazione della Campania, vanno 240.000 dosi in più rispetto a noi. Mi sono anche stancato, denuncia De Luca, di sottolineare la scorrettezza del commissario e del Ministero della Salute. È una vergogna. Sono irresponsabili. In Campania è anche vietata la vendita d'asporto di bevande alcoliche dopo le 22. Lo prevede un'ordinanza il governatore, illustrata dallo stesso presidente nella sua diretta social. Nella stessa fascia oraria, barra ed esercizi di ristorazione, potranno far consumare alcol solo ai tavoli o al banco. Sempre nell'ottica della prevenzione anti-covid, è vietato, dalle 22 alle 6, il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, compresi gli spazi antistanti, gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali. Sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per estorsione un 43enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo ha minacciato un edicolante del posto. Voleva del denaro e se la vittima non gli avesse consegnato i soldi avrebbe dato fuoco al suo negozio. Il commerciante ha chiesto aiuto ai carabinieri, che sono immediatamente intervenuti e bloccato il 43enne. L'arrestato è in attesa di giudizio. Ritardi nei servizi sociali, in particolare per l'assistenza dei cittadini torresi più fragili. Tante sono state le proteste negli ultimi giorni. Come si sta procedendo a Palazzo Baronale? Il Palazzo Baronale domani è all'attenzione del Consiglio l'approvazione e la ratifica del piano sociale di zona più un'altra delibera con una variazione di bilancio che li coinvolge. Le politiche sociali devono sempre essere una priorità per un'amministrazione, perché poi riguardano gli ultimi, le persone più fragili sotto l'aspetto economico, fisico, sociale. Quindi è chiaro che l'attenzione dovrebbe essere particolare, soprattutto se è una priorità delle linee programmatiche dell'amministrazione. È chiaro che in città ci sono una serie di difficoltà e sicuramente non sono soddisfatte nel migliore dei modi le istanze di queste persone su cui, ripeto, ci dovrebbe essere un'attenzione particolare. Da parte nostra per domani abbiamo presentato insieme anche al collega Gardarola un emendamento, perché analizzando il piano sociale di zona abbiamo verificato che ci sono delle risorse che sono già abbastanza congrue per alcuni servizi e pertanto c'è la possibilità di dare invece uno slancio di positività alle politiche giovanili. Il forum dei giovani in questi giorni ha manifestato una serie di difficoltà legate anche al mancato utilizzo della sede per via di difficoltà burocratiche di concessione. I giovani devono inevitabilmente essere una priorità, perché rappresentano un momento di speranza per questa città che negli ultimi anni sta trovando delle difficoltà amministrative non indifferenti. Il forum, tra le altre cose, ha sempre dimostrato in questi anni di mettere in campo delle iniziative di rilevo che hanno coinvolto numerosi giovani e che sono state anche di un certo spessore. Quindi destinare per loro 20.000 euro ci è sembrato un buon viatico anche per riavvicinare la parte giovane che un po' alla volta si stava allontanando dalla vita amministrativa. Speriamo che la nostra proposta domani poi possa essere accolta dal Consiglio. Servizi sociali a Torre del Greco, tante le polemiche negli ultimi giorni, oggi si è lavorato al piano di zona. Come si è proceduto? Questa mattina avevamo un incontro, ero stata convocata assieme al dirigente per un incontro ma solo di forma, non di sostanza, prodromico all'approvazione della delibera che dovrebbe passare domani in Consiglio. La delibera per l'approvazione o la ratifica del piano di zona rispetto alla quale ci si augura non c'è nessun tipo di problema. Non ci sia nessun tipo di problema anche perché, le ripeto, si tratta di una ratifica. La Regione ha omologato il piano di zona, ha dato il decreto di conformità, però chiaramente per una questione di iter burocratico va inserita, deve passare per la Giunta e poi per il Consiglio, dopodiché diventa operativo. Operativo e partiranno tutti i servizi, a parte che alcuni di questi sono già partiti. Caosi invece venerdì nei uffici dei Munini Marzoli. Sei arrivati all'incontro con i genitori che si erano presentati quella mattina? Sì, sì, li ho incontrati e li ho rassicurati. Mi è anche un po' dispiaciuto questo atteggiamento voglio dire di ribellione, laddove io ho sempre mostrato una grande disponibilità, tant'è che hanno il mio numero personale. Vabbè, capisco perché emotivamente queste mamme si agitano perché capisco che il problema è soprattutto loro. Quindi le ho incontrate, ho risposto alle loro domande, alle loro perplessità e ritengo di essere stata piuttosto chiara e soprattutto rassicurante perché di fatto loro vogliono appunto assicurazioni da parte dell'ente di una partecipazione anche emotiva oltre che materiale naturalmente e quindi questo tipo di rassicurazione io spero di averglielo dato. In ogni caso a breve partiremo con il progetto ITE a spasso per i parchi. Sono già intervenuta per, quindi sarebbe una ripetizione, l'ho già fatto presso la vostra sede dove ho spiegato tutti quelli che erano gli interventi e saranno gli interventi a breve e quindi adesso possiamo annunciare che i due interventi del progetto ITE a questione di giorni. Uno mi pare il 5 luglio è stato fissato e l'altro successivamente per la possibilità della partecipazione delle aziende per uno stagio formativo per i soggetti portatori di handicap o comunque diversamente abili con la previsione addirittura di un'indennità di 500 euro al mese per questi ragazzi che quindi contemporaneamente potranno imparare un lavoro e potranno anche portare a casa un po' di soldini per una questione loro di soddisfazione loro. Quindi noi ci stiamo muovendo. La macchina burocratica non è facile. Io è questo che vorrei far capire alle persone. questo ente è molto sensibile e il mio ufficio è molto sensibile. Ci attiviamo, veramente lavoriamo tutti i giorni per portare avanti questo discorso di tutti i servizi legati alle politiche sociali. Quindi io ce la metto tutta. Ancora degrado e rifiuti per le strade di Torre del Greco. Nessun miglioramento per quanto riguarda la situazione rifiuti nel comune Corallino. Tante le segnalazioni dei cittadini che vivono una situazione di disagio perenne. Soprattutto in zona porto e le sue traverse si assiste alla nascita di una vera e propria discarica. Si trovano scarti di plastica, lattine e sacchetti di immondizia sparsi ovunque in strada e ad ogni angolo. Camminando per queste zone si notano subito le esalazioni emanate da questi rifiuti che mettono a rischio la salubrità dell'intera zona. Soprattutto con il caldo degli ultimi giorni è impensabile che determinate tipologie di rifiuti restino ore sotto al sole. La cosa che più fa scalpore sono come al solito gli ingombranti, elettromestici rotti, televisori, pezzi di immobilio e materassi regnano per le strade cittadine rendendo i cassonetti e talvolta l'intera zona di raccolta del rifiuto inagibile soprattutto per coloro che devono semplicemente gettare un sacchetto. Tutto è ovviamente aggravato dal fatto che sia lunedì mattina. Come è stato più volte spiegato la domenica non vengono ritirati i rifiuti e quindi il sabato non bisognerebbe depositarli. Nonostante l'inciviltà di molti però è necessario organizzare un servizio che possa sopperire evitando disagi e pericoli legati al caldo. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro Tg. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete condattare la nostra redazione inviando un'email all'indirizzo redazione chiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani. Grazie. Grazie.